Da lei per commentare questo risultato, buongiorno, questo risultato di Marine Le Pen. Che cosa dice? È diciamo di incoraggiamento per le politiche della Lega? Dice che un'altra Europa è possibile, perché identici sondaggi ci sono in Austria, in Olanda, nelle Fiandre, per quei movimenti che non sono contro l'Europa, non sono di estrema destra, ma semplicemente vogliono un'altra Europa, rimettono in discussione l'euro, che dal nostro punto di vista è una parte della causa dei nostri mali, non il tutto ma è una parte sostanziosa e sostanziale della causa dei nostri mali, è una moneta criminale e quindi una lotta, un'immigrazione incontrollata, una lotta per recuperare sovranità sul lavoro, sulla speranza, sul futuro. Se quasi la metà dei francesi che hanno votato nell'amministrativa hanno votato Le Pen, non penso che i francesi si siano risvegliati tutti di estrema destra, semplicemente non riconoscono ai partiti attualmente al governo e all'euro e al sistema di Bruxelles una forza, una dignità, una democrazia che li rappresenta. Quindi è un ottimo segnale, non per la Lega, noi sì abbiamo fatto un accordo con Marine Le Pen e ci alleeremo per un'altra Europa, però è un buon segnale per l'Europa, è un buon segnale per quelli che non vogliono morire di euro. Non crede che piuttosto che un segnale per la Lega possa essere un buon segnale per il Movimento 5 Stelle? No, perché sul tema dell'immigrazione non c'entrano un fico secco con la Le Pen, visto che il Movimento 5 Stelle è riuscito dopo dieci anni i tentativi della sinistra a cancellare il reato di migrazione clandestina, mentre invece la lotta contro l'euro e la lotta per difendere la priorità dei francesi in Francia, degli italiani in Italia, i confini. Da tre giorni ci sono 2000 clandestini che alloggiano in hotel a tre stelle, in giro per l'Italia, a Pavia ad esempio alloggiano in un albergo con piscina, sauna e centro benessere. Questa è una cosa che grida vendetta agli occhi di chi ha difficoltà italiano a pagare l'affitto o il mutuo e quindi questa è la battaglia per un'Europa diversa fondata sul lavoro e sulla difesa dei nostri prodotti che con Grillo c'entra poco. Allora...